Sieduta prudente per le principali borse del vecchio continente, la cautela regna anche sulla piazza di Milano. Tra le migliori blue chips di piazza affari, ottima performance per Ubi Banca, che registra un progresso del 4,82%, le peggiori performance invece si registrano su Campari. Lo spread migliora con il rendimento del BTP decennale pari al 2,10%. Tra i dati macroeconomici rilevanti, frena leggermente il surplus della bilancia commerciale tedesca in scia al rallentamento delle esportazioni, mentre aumenta la produzione industriale del Regno Unito ma sotto le attese degli analisti. Nel pomeriggio sono attese le vendite all'ingrosso e le scorte all'ingrosso dagli USA. Attesa una partenza stabile per Wall Street, in particolare il future sull'S&P 500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA, che scambia 5.886,25 punti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.